possiamo iniziare allora pillole di frameworkless ma intanto mi presento io mi chiamo christian nastasi lavoro in facile punto it il mio ruolo è quello di delivery manager sviluppo cosa ormai da qualche annetto e ciò diciamo qualche passione più o meno prima di iniziare però volevo un attimo volevo un attimo fare un piccolo piccole precisazioni allora intanto questo talk è basato su studi ed esperienze personali e vorrei sottolineare appunto personali quindi sono fondamentalmente cose che ho imparato poi magari tra qualche mese facile che alcune di queste ritterrò non più valide perché come tutti noi siamo in continua miglio in continuo miglioramento quindi va bene alcune alcune cose non magari non sono molto approfondite quindi non c'era molto tempo potrebbe esserci qualche meme e da qui in poi sarà tutto scritto in inglese più o meno quindi introduzione allora oggigiorno i framework sono diventati potremmo dire un male necessario c'è chi li ama e c'è chi invece li tollera ci danno un sacco di funzionalità già pronte ci velocizzano almeno inizialmente il nostro sviluppo c'è una grossa comunità intorno ad essi quindi questo è un vantaggio sicuramente un grosso vantaggio sono open source questo vuol dire che io posso prenderlo guardarci dentro vedere come sono fatti se voglio personalizzarli cambiare cose farle più vicino a ciò che io bisogno e soprattutto imparare come sono fatte imparare cose ci danno tanti poteri certo però sappiamo tutti che da grossi poteri arrivano anche grosse responsabilità infatti questo ci porta anche a spesso avere delle scelte architetturali guidate del framework stesso ciò che significa significa che banalmente se usiamo doctrine questo scuola se usiamo symphony questo vuol dire che poi utilizzeremo doctrine quindi magari un pattern che di data mapper se usiamo lara belle allora molto più facile che useremo un active active record come eloquente quindi questo implica molto anche come poi andremo a strutturare il nostro il nostro codice giusto per citare un paio che succede quando dobbiamo aggiornarli spesso e volentieri è un problema perché spesso ci sono breaking changes e ciò potrebbe essere molto molto doloroso se noi abbiamo personalizzato questo framework può darsi che non può darsi ci portiamo dietro tutto questo c'è tutto il framework quindi dobbiamo continuare a mantenere il framework stesso quindi se dobbiamo aggiornarlo poi le parti che abbiamo personalizzate potrebbero essere più compatibili e questo è un problema quando leggiamo la documentazione di un framework questo dopo c'è il problema che spesso per farci capire come funzionano non scendono mai troppo nei dettagli quindi ci insegnano il modo più semplice per il modo più semplice per usarlo e non necessariamente il modo migliore cosa che magari si si apprende poi con l'esperienza noi noi siamo pigri siamo fondamentalmente pigri quindi raramente ci piace uscire la nostra comfort zone quindi se noi sappiamo usare un cacciavite continuiamo a usare cacciavite anche se dobbiamo mangiare una bistecca fondamentalmente e questo è un altro problema perché vuol dire che non sempre utilizziamo il tool o comunque l'attrezzo necessario per quello che ci serve in quel momento diamo un'occhiata un po a symphony symphony hanno una velocità di uscita abbastanza frequente diciamo almeno 12 a volte anche tre versioni all'anno vuol dire che se dobbiamo mantenerlo se vogliamo manutenere le varie versioni è complicato è molto complicato perché in alcuni di questi potrebbero anche esserci grossi backing changes se prendiamo un altro grosso framework di come l'aravel la stessa cosa fondamentalmente abbiamo un un grado di di cambio di versione molto molto frequente quindi poi domande al momento immagino che molti di voi sono in framework quindi quando è quale quante vecchio la vostra versione del framework quindi rispetto alla versione attuale che è uscita l'ultima versione quanto è vecchio e quanto è invece vecchio il progetto su cui lavorate spesso il progetto può durare anche anni sei anni otto anni e quante volte riuscite poi realmente a far l'upgrade del framework all'ultima versione e quando l'avete fatto quanto vi è costato non so se qualcuno vuole provare a dare qualche risposta ok dal vivo sarebbe stato molto più facile comunque ognuno risponda per sé perché comunque so bene le risposte quali sono le risposte molto facilmente saranno quando avrò abbastanza tempo sicuramente l'aggiornerò il mio framework il business sì sicuramente capirà in realtà no business non c'è tempo per questo la verità è che non c'è mai abbastanza tempo per fare factoring e rimuovere dei delle dipendenze molto accoppiate fortemente come quello di un framework costa costa tanto e quindi nonostante ogni giorno noi pensiamo cosa faccio rifattorizzo a giorno il framework oppure mantengo tutto com'è la risposta è che molto spesso noi scegliamo di mantenere le questioni le cose come sono perché costa e quindi nessuna nuova versione ho piccato nessuna nuova nuova feature nessuna problemi di security e anche problemi di licenza a volte quindi usare non usare i framework a questo punto se hai tutti questi problemi mi conviene veramente usarli in realtà lo possiamo usare ma basta invertire le nostre dipendenze che significa significa che potrei cioè al momento il mio codice che chiama i pezzi del framework quindi sono molto dipendente al framework in realtà la soluzione è che il framework chiami il mio pezzo di codice cioè i miei miei codici il mio codice sono un po come dire emozionato scusate questo si può chiamare anche hollywood principal cioè non chiamarmi ti chiameremo noi bello molto bello a livello teorico molto bello ma è tutto questo come si fa realmente ci sono tutta una serie di metodologie tecniche pattern che ci aiutano in questo e queste sono alcune quindi psr architetture a strati se vogliamo tradurlo il principio di inversione di dipendenza design by contracts proviamo a vederli un attimo a livello molto come dire superficiale alcune di queste qua partiamo da design by contracts allora intanto è stato creato come concetto da bertrand mayer nel 1180 addirittura ha creato un linguaggio di programmazione che si chiama eifel dove a livello proprio di implementazione tu puoi definire un contratto che tra poco vedremo che cos'è è un approccio che permette di focalizzarsi sui contratti quindi che significa l'interazione tra i componenti quindi abbiamo due interlocutori e in altre parole quindi abbiamo una cosa che chiameremo client e una cosa chiameremo server quindi due fondamentalmente due due pezzi due componenti che comunicano fra di loro il client è quello che fa la richiesta il server è quello che poi lo esodisce questa richiesta abbiamo una precondizione la precondizione è quello che è una condizione che deve essere avverata quando il client fa una richiesta la post condizione e quando invece cioè è quello che il server ci ritorna in più delle delle cose che succedono dopo dopo che il server ha fatto ha fatto quella azione e infine abbiamo le invarianti che sono delle condizioni che devono essere sempre vere sempre verificate all'interno del server indipendentemente da chi fa questa richiesta se facessimo un esempio reale abbiamo tu che sei il cliente e vuoi mangiarti una pizza quindi vai dalla tua pizzeria di fiducia la precondizione intanto che tu devi avere abbastanza soldi perché altrimenti il pizzaiolo col piffero che ti dà una pizza e sicuramente devi avere un'idea chiara su che pizza vuoi prendere quindi devi dire al pizzaiolo voglio questa pizza la post condizione è sicuramente che tu avrai una pizza è il che l'ingrediente no tanto non è la pizza ma avrai la pizza che tu hai scelto e gli ingredienti che sono stati usati ovviamente non ci saranno non saranno più disponibili quindi saranno ci sarà una riduzione degli ingredienti disponibili come invarianti abbiamo che sicuramente la pizza sarà sempre calda e la pizza sarà preparata al momento se vogliamo vederlo con del codice questo tra l'altro l'unico codice che ci sarà in questa presentazione facciamo finta di avere un programma per una libreria quindi noi abbiamo un'interfaccia che chiameremo library che ha un metodo per poter prendere in presto un libro come input sicuramente abbiamo il libro è il member che sarebbe il la persona l'utente della libreria che vuole che vuole prendere in presto il libro come come valore di ritorno abbiamo il libro prestato la precondizione è che il libro deve essere all'interno del dell'indice dei libri quindi deve essere all'interno della della libreria quindi deve essere in catalogo diciamo ci deve essere almeno una copia disponibile perché altrimenti non posso prendere in presto il libro è il ovviamente il membro quindi la persona deve essere registrata deve avere un una tessera che dice sei membro della libreria e soprattutto non deve essere scaduta come post condizione abbiamo il fatto che se prendo il libro allora ho una persona un libro in meno nel nel nella biblioteca e c'è un libro in più prestato come invariante abbiamo che la la somma dei libri prestati più la somma dei libri presenti in biblioteca è sempre costante quindi non devono mancare libri fondamentalmente come come eccezioni che lanciamo abbiamo queste qua quindi in caso di di condizione non verificata non lanciamo un'eccezione questo è un esempio di come appunto può essere sviluppato in php una un contratto e tutte le classi che implementano questa interfaccia devono poi rispettarlo se vogliamo che il nostro codice funzioni quindi come facciamo a utilizzare questa metodologia in php sono delle librerie apposite con l'unit testing quindi facendo le asserzioni su sia sulle precondizioni che le post condizioni e verificando che tutto funzioni come è da contratto possiamo farlo in maniera soft quindi attraverso commenti annotations quindi dire al programmatore guarda che io mi aspetto questa cosa qua ovviamente non è una qualcosa di formale ma è un modo per farlo attraverso il linguaggio quindi usando dei vincoli come abbiamo fatto prima quindi se io accetto in ingresso una classe tipo book non può essere una classe di tipo non so una classe di tipo completamente differente deve essere quel tipo di classe e questo è un vincolo e utilizzando anche il concetto di velo object che vedremo poco più avanti quindi qualcosa che ci ci trasporta un valore nel nostro nel nostro codice dependency inversion principle allora è un modo per definire o meglio è un segue delle regole ben precise secondo uncle bob robertsy martin moduli di alto livello non dovrebbero dipendere da moduli di basso livello ma entrambi dovrebbero dipendere da un'astrazione le astrazioni non devono dipendere dai dettagli i dettagli però devono dipendere le astrazioni che significa in parole in altre parole significa che se noi abbiamo un codice che la dipendenza forte come potrebbe essere un file logger dobbiamo trasformarlo in questa maniera quindi invertiamo invertiamo la dipendenza che significa invertire significa che se qua abbiamo una direzione di dipendenza questa qua e noi praticamente mettiamo in mezzo un'astrazione che ci permette di non dipendere più dalla dall'implementazione del dettaglio stesso ma ci permette di astrarci rispetto allo stesso e quindi anche qua attraverso un contratto noi diciamo quando uso logger e chiamo il metodo di logger lui poi mi salverà mi loggerà quell'informazione come input deve essere una stringa ad esempio e quindi questo ci permette anche di fare una cosa ancora più interessante e cioè di attaccarci altre astrazioni o altre più che altre astrazioni altre implementazioni e questo ci permette di anche switchare o comunque di cambiare in fase di runtime quale utilizzare senza avere una dipendenza forte e questo è fondamentalmente quello che che significa questo principio ovviamente questo è una classe concreta una classe e questo è un'interfaccia PSAR allora PSAR sono delle specifiche diciamo dei contratti creati da questo gruppo del PHP Framework Interoperability Group che dal 2009 sta provando appunto di creare questi standard che permettono di riutilizzare diversi componenti che permettono di riutilizzare diversi componenti o meglio che permette la comunicazione fra i vari componenti inizialmente inizialmente parlando dei framework e poi in realtà è molto più legato anche alle librerie quindi vedere quasi i framework come se fossero un aggregato di librerie questo è un po' quello che stanno cercando di fare al momento sono stati sono stati definiti ben non li ho contati però tutti questi tutti questi standard alcuni legati a proprio a come si scrive il codice altri molto più di utilità come ad esempio l'autoloading o la parte di container o altre cose molto utilizzate come l'http o la cache questo ci permette davvero di passare da una libreria all'altra l'importante che come prima il contratto sia rispettato quindi se c'è una libreria che fa meglio quello che a noi serve non dobbiamo più impazzire per cambiarla basta basta semplicemente che ne troviamo un'altra che ha lo stesso contratto e con poche configurazioni riusciamo a utilizzarle ed architecture allora ci sono tanti nomi differenti per o meno tanti approcci tante strade che poi portano più o meno a un concetto molto simile questo ad esempio la clean architecture di uncle bob dove si vede chiaramente che ci sono una suddivisione molto forte tra diverse componenti del nostro sistema più andiamo verso l'interno e più abbiamo concetti di dominio quindi concetti legati al nostro al problema che noi dobbiamo risolvere più andiamo verso l'esterno e più abbiamo quello che potremmo chiamare dettagli implementativi o comunque questioni di infrastruttura come ad esempio che database stiamo utilizzando che a cosa ci attacchiamo esternamente l'interfaccia grafica o se ci attacchiamo via web o anche altri devices e poi da lì abbiamo accascata tutta una serie di elementi che ci permettono di accedere a questo come dire al mondo interno quindi i controller sono normalmente quelli web o ad esempio da CLI quindi da riga di comando e così via quali sono i goal principali di questa metodologia o comunque di questo pensiero prima di tutto dobbiamo essere indipendenti dai framework quindi la mia architettura non deve dipendere da librerie esterne deve essere testabile quindi io posso testare le regole di business senza il database senza l'interfaccia grafica o senza nessun elemento esterno dobbiamo essere indipendenti dall'interfaccia grafica che significa che possiamo cambiarla volendo senza cambiare il suo sistema potremmo pensare ad esempio un'applicazione che gira sia su web che mobile che tutta una serie di altre tecnologie o comunque anche non so API esterne per fornitori quindi senza che noi cambiamo niente della nostra architettura indipendenti dai database quindi noi possiamo cambiare da MySQL a Postgre ad esempio o Mongo e la C-Search che sono database completamente differenti l'uno dall'altro senza che le nostre regole di business sono cambiate perché? perché noi comunque astraiamo il concetto di persistenza quindi noi sappiamo che i nostri argi sono salvati da qualche parte ma non ci importa saperlo come almeno non quando lo usiamo nel dominio noi sappiamo che se facciamo ad esempio un find customer lui mi tornerà un customer con le informazioni che mi servono in poche parole dobbiamo renderci indipendenti da qualsiasi agente esterno qualcosa che possa creare dei vincoli che ci bloccano o che creano dei impedimenti nella nostra evoluzione della nostra architettura altra cosa fondamentale è la regola di dipendenza cioè praticamente il nostro codice deve puntare solo internamente quindi le nostre entità non devono sapere niente delle use case ad esempio ma gli use case devono conoscere l'entità e così via quindi così come il DB non deve sapere niente di tutto ciò che sta o meglio il DB può sapere quello che sta dentro ma ad esempio il Gateways non deve sapere di dettagli implementativi del DB ad esempio Domain Driven Design Domain Driven Design è una serie di pattern architetturali che sempre di più stanno venendo di moda sono alla moda ma in realtà c'è un motivo per questo non sono uno solo pattern sono anche è quasi una filosofia in realtà il concetto base è quello che il nostro codice deve rispecchiare il nostro dominio il nostro dominio di business quindi se io ad esempio vendo pizza mi aspetto che nel mio codice abbia il concetto di pizza abbia qualcosa che abbia a che fare con la pizza così come l'esempio di prima nella libreria io avrò quindi concetti che rispecchino il mio dominio quindi libri member membership quindi tutti i termini così come anche i verbi le azioni che normalmente vengono fatti dentro al mio dominio quindi borrow book quindi affittare un buco un buco un libro e così via quindi è molto importante creare un linguaggio condiviso tra noi che sviluppiamo e gli stakeholder o comunque gli esperti di dominio così che parlando la stessa lingua si riesce a capire loro quello che hanno bisogno veramente e come noi possiamo fare a risolvere i loro problemi altro concetto fondamentale è quello di definire bene i confini del nostro dominio intanto definire quali sono i concetti quali sono l'entità quali sono le interazioni fra di esse e soprattutto suddividerli in sottodomini perché ad esempio potremmo avere dei concetti che possono variare in base al contesto vediamo ad esempio il concetto di product o di customer quando noi vendiamo un prodotto le informazioni di cui abbiamo bisogno e le azioni che facciamo su di esso variano in base a se lo stiamo vendendo o se stiamo facendo supporto se facciamo supporto ad esempio non avrò l'azione vendi vendi prodotto ma avrò ad esempio l'azione di rimborso il prodotto mi vende a pensare e questo ci permette sempre di più di fare meglio o meglio risolvere meglio il problema di business questi qua sono fondamentalmente i pattern che costituiscono il il ddd che ad esempio velo object è un'entità o meglio un oggetto che ha la caratteristica di autovalidarsi quindi non può esistere un'istanza di questo oggetto senza che la regola di dominio non sia valida ad esempio se io ho un concetto come l'età ma questo lo vediamo dopo devono essere immutabili quindi non possono essere modificati perché se io li modifico allora sono un altro oggetto completamente differente devono essere comparabili quindi posso verificare che un oggetto è uguale a un altro devono descrivere valori e concetti del mio dominio e soprattutto ci aiutano a proteggerci da noi stessi perché spesso quello che facciamo oggi tra due e tre mesi ci dimentichiamo e quindi se questo oggetto non può esistere senza che non sia valido questo ci fa fa sì che se noi sbagliamo usarlo lui lancia un'eccezione e quindi il nostro codice non funziona e quindi ci accorgiamo che stiamo sbagliando facendo esempi pratici ad esempio io non posso avere dei money negativi mi vengo a pensare quindi non posso avere meno dieci euro e dieci euro se io ci aggiungo un euro diventa un dieci euro che sono diversi da dieci euro per questo devono essere a immutabili e b comparabili poi entità entità sono formate principalmente da velobject non necessariamente ma possono essere formati da velobject hanno una caratteristica fondamentale devono essere identificati da un id quindi devono essere univochi univc hanno una una life cycle quindi una cycle una non riesco a dire un italiano mi spiace comunque nascono e muoiono quindi hanno un un arco di vita in cui possono fare cose per cui possono anche essere mutabili ad esempio un utente può cambiare la mail diventi a pensare quindi possiamo avere delle variazioni su i dati interni gli aggregati gli aggregati sono dei concetti d'alto livello del nostro del nostro dominio ancora più delle entità perché infatti possono essere composte da più di un'entità spesso abbiamo concetti che hanno bisogno di più informazioni per essere discritte possono essere cioè non è che possono devono essere costituite da concetti molto vicini uno con l'altro e soprattutto gestiscono internamente il concetto di pre post condizione e invariante un po' come il discorso di contratto che abbiamo fatto prima quindi anche qua il mio aggregato deve avere delle condizioni che devono essere verificate nel nostro caso nel mio dominio io mi aspetto che appunto quegli oggetti di dominio validano validino il nostro contesto fondamentalmente questo è un esempio col discorso della libreria di prima o no in realtà non la libreria ma di un post di un blog abbiamo il post che al suo interno ha il concetto di autore che è molto vicino quindi un post deve avere un autore può avere dei commenti al contenuto e c'ha delle reazioni queste entità da sole hanno poco senso di esistere devono essere comunque tutte in relazione con lo stesso cioè tra di loro in poche parole quindi c'è bisogno di un qualcosa che orchestri queste relazioni e che soprattutto faccia sì che siano valide repositories quindi è un altro pattern molto molto usato vorrei precisare che ad esempio i repository di doctrine un po' scimmiottano questo concetto ma in realtà non sono esattamente cioè non rappresentano esattamente questo concetto comunque astraggono il nostro layer di persistenza praticamente ragiona su come se avessimo una collection di entità o di aggregati quindi possiamo aggiungerne possiamo toglierle possiamo aggiornarle possiamo dirmi dire esiste questa entità non esiste ci permette ci aiutano a isolare il nostro dominio dalla persistenza che significa che esattamente come prima con il discorso del logger io posso ad esempio cambiare l'implementazione in base a quello che mi serve se prima era con MySQL l'importante è che io rispetto il contratto che ho fatto quindi la mia interfaccia deve essere sempre verificata e la posso cambiare ad esempio con MongoDB o con qualcosa di remoto ad esempio il mio codice continuerà a funzionare alla stessa maniera use case praticamente sono il posto dove io metto la mia logica di business le use case sono molto legate al contesto al dominio mentre i servizi sono più generici e possono essere utilizzati anche fra vari domini seguono il concetto di singola responsabilità quindi ognuno di essi fa solo solo una cosa questo è un esempio use case quindi nel dominio di post di prima io posso fare una pubblicazione ma potrei avere bisogno di fare un upload di un file in più contesti questo spero sia un factories allora ci permette di centralizzare la creazione dell'entità degli aggregati in che modo ci aiutano anche di applicare il principio di inversione del controllo ah già finito sono molto utili molto utili perché ci permettono di non di non avere più logiche di creazione in più posti differenti e che significa che magari rischiamo di differire anche leggermente e quindi creare dei bacchi fondamentalmente magari in un post settiamo qualcosa che nell'altro non settiamo o abbiamo dei valori differenti eventi quindi questo ci aiuta a centralizzare eventi di dominio devono essere mutabili quindi viaggiare per il nostro dominio una volta lanciati senza che qualcuno possa cambiare i valori devono rappresentare qualcosa di importante che è successo nel nostro dominio devono la convenzione dice che devono essere rappresentati con cioè il nome deve essere un verbo al passato quindi qualcosa che è successo ecco abbiamo fatto un po' una spolverata di vari concetti vediamo se riusciamo a mettere un po' tutti insieme questi concetti perché finora bella la teoria ma io voglio vedere la pratica immagino che vi chiedete vi dite quindi questo è uno scenario abbastanza comune quindi abbiamo un controller quindi una chiamata HTTP che chiama il controller poi il controller tramite un RM come potrebbe essere Doctrine fa una query al DB e poi il DB ci ritorna il valore che ci serve bello però che succede se abbiamo più punti che fanno la stessa cosa più punti di accesso ad esempio abbiamo il nostro controller per facciamo l'esempio di prima di library per fare per affittare un libro abbiamo però anche la possibilità di farlo da riga di comando oppure tramite un comando lanciato da un sistema esterno tutti e tre devono fare fondamentalmente la stessa cosa quindi abbiamo una duplicazione quindi prima ottimizzazione che potremmo fare è quello di prendere questa business logic e estrarla e farla e iniettarla in questi in questi tre entry point quindi abbiamo un unico posto dove questa logica viene eseguita bene molto interessante ma che succede se abbiamo più business logic che ad esempio fanno la stessa query mi sembra molto simile a prima per cui possiamo anche qua creare un oggetto creare un qualcosa che ci contenga quella logica o quella query senza che quei tre la duplichino quindi alta ottimizzazione bene poi dentro la nostra business logic può essere che creiamo degli oggetti o comunque dei concetti che sono poi quelli come dire che sono quelli che posiamo nella nostra query potrebbero essere tipo delle entità di doctrine che stiamo creando quindi primo passaggio applichiamo il pattern factory quindi abbiamo un unico posto dove noi creiamo questo A che è il nostro concetto di dominio bene ma possiamo far di meglio eh sì applichiamo l'inversione il principio di inversione della dipendenza che abbiamo visto prima e quindi la factory diventa un'interfaccia e abbiamo poi quindi la dipendenza della business logic fa riferimento all'interfaccia e poi abbiamo le nostre implementazioni che che implementano questa interfaccia tra l'altro poi potremmo avere diversi casi in cui abbiamo delle logiche che ci creano questi oggetti queste entità ma che arrivano da o sorgenti differenti o logiche differenti quindi può darsi che non c'è l'unico modo per creare questa entità ma noi vogliamo che comunque la nostra business logic ignori come questo venga fatto ma semplicemente dica io voglio avere questo A non mi importa come tu lo ottieni ma fammelo avere bene vediamo di applicare un'altra un'altra ottimizzazione quindi applichiamo di nuovo questa inversione di dipendenza questa volta alla nostra query introduciamo il concetto di repository che abbiamo visto prima a questo punto ci si apre tutta una serie di possibilità la nostra business logic sa che se fa save di quell'entità di quella verrà salvato e se poi farà una get questa entità ritornerà sempre ritornerà come lui si aspetta cosa ci sia dietro che ci sia un SQL che ci sia un Mongo non importa potrebbe anche esserci una chiamata esterna un servizio o potremmo farlo in memory perché vogliamo testare che la che la logica venga effettivamente fatta come non ci aspettiamo senza avere dipendenza da da un database esattamente come ci diceva il nostro principio della layer di architecture quindi noi possiamo testare il nostro business logic senza dover dipendere da un database fisico attraverso questo approccio bene ma che cos'è ah qui lì abbiamo detto che è un concetto di dominio ma come lo come lo traduciamo come lo rappresentiamo lo rappresentiamo utilizzando utilizzando dei oggetti di dominio che potrebbero essere bello objects entities aggregati e nums ma perché tutto questo perché non usare primitivi perché non usare string interi perché non usare boolean o altre cose proviamo a fare un piccolo ragionamento allora che cos'è un'età una variabile che contiene un age un'età molti direbbero un numero sì oppure che cos'è un phone number quindi un numero di telefono una stringa no l'età non è esattamente un numero perché l'età spesso e volentieri ha dei limiti ha dei vincoli non penso che un'età di 300 possa essere valida nel nostro dominio magari 99 no magari 115 120 però comunque ha dei limiti superiori e anche inferiori intanto deve essere positiva non possiamo avere un'età di meno 10 e poi in alcuni casi magari potremmo dire nel nostro dominio deve essere soltanto maggiorenni per esempio vendiamo cose e quindi non possiamo accettare un oggetto age che ha un'età diversa da questo range quindi noi lo mettiamo dentro un velo object e lui ci valida che questo valore sia quello che noi ci aspettiamo e non dobbiamo quindi mettere if ovunque nel nostro codice per verificare che che quel valore sia così lo stesso per phone number non è una stringa perché parte con un più ha un prefisso e poi ha 8 9 numeri ad esempio il nostro dominio accettiamo soltanto i numeri italiani quindi il prefisso sarà 039 tutto ciò che non è più 39 non ci va bene e quindi lanciamo un errore se questo non è verificato quindi parliamo di sicurezza dei dati perché attraverso questo approccio che succede abbiamo un esempio un json che ci arriva dall'esterno noi non sappiamo se è sicuro o meno se i dati sono corretti o meno potrebbe arrivarci davvero qualsiasi cosa sappiamo solo che è una stringa facciamo un decode e quindi trasformiamo questa stringa da primitivi a scusate da una stringa a una serie primitivi che quindi possono essere interi float boolean string array al momento quindi questi valori non sappiamo se sono validi o meno dobbiamo validarli e quindi facciamo un'altra trasformazione facciamo un map tra un mondo e un altro e da questi primitivi tiriamo fuori degli oggetti di dominio quindi entità volo oggetti aggregati e qui siamo sicuri che se questi oggetti si stanziano allora noi abbiamo tutto coerente con quello che noi ci aspettiamo quindi proviamo a mettere tutto insieme vediamo un attimo quindi abbiamo dei diversi entry point nel nostro dominio nella nostra applicazione che possa essere chiamata HTTP una riga di comando quindi comandi da tastiera un command bus ad esempio potrebbe anche essere un socket o quanti altri ci vengono in mente di entry point questi entry point vengono gestiti da degli oggetti che possono essere un controller un comando un handler o altri nomi diversi per intendere entry point differenti quindi io so che se c'è un errore in un controller allora il problema sta in una chiamata HTTP se c'è un errore in un comando allora so già dove andare a guardare quindi sono tutti come dire anche la nomenclatura che utilizziamo è in funzione del nostro scopo quindi togliere carichi cognitivi quindi togliere problematiche di comprensione o come dire di va bene poi i nostri i nostri entry point chiamano delle logiche di business i nostri use case che a loro volta fa riferimento al dominio use case poi a loro volta possono chiamare dei repository o degli adapter i repository fanno riferimento comunque alla persistenza gli adapter poi invece a servizi esterni quindi qua abbiamo il nostro dominio questi componenti possiamo dire che fanno parte del layer di applicazione questa parte qua di fatto sono elementi del framework perché qua abbiamo ad esempio il nostro interfaccia del nostro repository e poi l'implementazione fa riferimento a concetti tipici del framework qua dentro potrei metterci doctrine se uso l'aravel se uso symphony eloquent se uso l'aravel o anche pdo o quello che mi pare lo stesso qua c'ho un'interfaccia e poi l'implementazione potrei usare gazole o anche una cur direttamente quello che mi pare l'importante è che come vedete la direzione della dipendenza sia sempre ben definita ben chiara soprattutto non ci sia qualcosa che torni indietro dall'interno io non devo sapere niente di ciò che sta all'esterno infine l'ultimo layer l'infrastruttura è tutto ciò che sta fuori dal mio framework quindi di fatto noi il framework lo stiamo utilizzando e come ho detto all'inizio noi stiamo invertendo della dipendenza non è più il nostro dominio o il nostro logica di business che chiama elementi esterni quindi che sappia che cos'è un db e che db stia utilizzando o che delle informazioni siano in un servizio esterno io semplicemente ho delle interfacce che mi forniscono quelle informazioni che a me servono ok conclusioni allora quali sono i contro partiamo dai contro sicuramente questo approccio non è facile da da acquisire da imparare richiede molta molta disciplina e soprattutto non non va bene per ogni scenario va benissimo se abbiamo contesti complessi e se il il ciclo di vita del nostro software è molto lungo soprattutto a costi iniziali molto alti poi si abbassa di molto perché ci migliora di molto la manutenibilità sicuramente il pro è che ci rende o comunque ci tiene il nostro debito tecnico molto basso velocizza di molto lo sviluppo del processo di sviluppo nel meglio termine meglio lungo termine abbiamo un dominio che è solido coerente soprattutto nei suoi dati non abbiamo quindi problemi di eh ma mi manca questo dato ci manca questa informazione c'è un dato che è corrotto perché il dominio stesso il codice stesso fa sì che non può esistere questa condizione altrimenti non funziona è molto focused quindi molto mirato al business quindi a ciò che noi dobbiamo fare veramente il problema che noi dobbiamo risolvere veramente e soprattutto è facile da mantenere è facile da evolvere spesso se arriva a punti in cui abbiamo un codice talmente mostruoso talmente intricato che ogni ogni feature che proviamo ad aggiungere o cambiare ci costa veramente troppo quello che ho appena raccontato in realtà non sono l'unico come dire non sono l'unico che ci ha pensato c'è proprio un movimento con tanto di pronto sì dico c'è c'è proprio un movimento che che si ha frameworks movement con un manifesto che promuove questo tipo di approccio vi invito ad andare a darci un'occhiata perché comunque è interessante è abbastanza anche veloce da leggere ho messo doppio ok quindi domande Cristian posso? sì senti facendo un super riassunto che naturalmente taglia un po' le cose sarebbe nella business logic usa il linguaggio di base diciamo PHP in tutto il resto usa il framework cioè praticamente all'interno della della biologica di business mai usare pezzi del framework esatto più o meno certo questo sta un attimo tagliando un po' le cose naturalmente penso che il discorso sia anche un pochino più complesso però l'idea sarebbe un po' questa cioè quando tu lavori fai qualcosa che è il tuo business diciamo la gestione delle polizze magari se stiamo vendendo polizze auto però il parlare con l'esterno cioè chiamare il DB di Banca d'Italia diciamo un po' non so se questo abbia senso lo facciamo col framework in pratica cioè più o meno come linea generale poi certo sì questo io vedo che qui ha un difettino tipico cioè grosso cioè che qui devi partire con una buona analisi di business cioè è difficile partire senza un concetto del proprio dominio abbastanza stabilizzato forse sì in realtà su questo non è vero perché comunque ti vengono tutta una serie di diciamo che torniamo un attimo indietro allora dove è eccolo qua allora questo qua questo flusso che tu vedi è valido per diciamo un use case quindi hai per te tanti flussi di questo tipo quindi tu puoi farlo un flusso alla volta quindi non ti serve avere tutto la visione insieme di tutto il tuo dominio tu puoi farlo anche solo per una singola funzionalità certo chiaro il dominio poi mano a mano verrà costruito sarà sempre più complesso sarà sempre più ricco però tu puoi per iniziare puoi farlo già un singolo flusso una singola feature alla volta quindi puoi ovviamente tagliare in maniera trasversale tutto tutto il tuo diciamo tutta la tua applicazione fondamentalmente certo e all'inizio devi costruirti tutto poi mano a mano che riutilizzi i componenti le componenti allora ti costa di meno però non è necessario conoscere tutto il dominio per iniziare ti basta anche solo partire da unica feature o da un unico sottodominio se ti ricordi abbiamo parlato di dove sta di bounded context qua vediamo se riusciamo a andare eccolo qua tu puoi anche solo ragionare su un singolo problema su un singolo sottodominio non devi per forza avere tutta la visione insieme noi lo stiamo applicando a singoli problemi abbiamo un codice legacy che stiamo piano piano rifattorizzando applicando questa questa metodologia e non possiamo ovviamente rifattorizzare tutto nella botta sola rifattorizziamo un concetto alla volta per risolvere un problema alla volta spero di averti risposto sì direi di sì volevo approfittarne per riportare un commento che ci siamo persi prima perché era in chat Cristian mentre facevi il discorso dei framework degli upgrade Mirko ha detto io sono piuttosto nubo conosco solamente l'arriver e lo uso da circa un anno ho fatto i passaggi da 6 a 7 da 7 a 8 per necessità nonostante il sacro terrore pre-upgrade di entrambe le volte è andata abbastanza liscia e ho fatto tutto nel giro di 1-2 ore massimo direi che insomma con i framework moderni più diffusi appunto l'arabe le symphony ci sono tanti modi per ammorbidire questo scalino di upgrade però penso che l'approccio proposto da Cristian non annulli questi vantaggi nel senso che si vada ad aggiungere cioè si applica a questo discorso il framework fondamentalmente si riduce solo la superficie di contatto tra il tuo codice e il framework e quindi sarà comunque più semplice perché se hai un milione di righe di codice ma solo un 5% di esso tocca il framework solo quel 5% sarà infettato da un esempio l'upgrade giusto no? esatto esattamente beh giusto per fare un esempio con Laravel Laravel adesso non ricorda che versione che versione aveva fatto un giochetto nel senso le rotte prima erano definite passandogli ad esempio il controller ma dannogli il path relativo da una versione in poi ha messo il path assoluto quindi molti che hanno fatto l'upgrade sono trovati fregati perché praticamente non funzionava più niente nel loro API perché diciamo ovviamente non riusciai più a trovare le classi perché ora si aspettava il path assoluto quindi a volte va di fortuna ed è indolore a volte è veramente un bagno di sangue dipende da quanti concetti hanno cambiato o meno diciamo a volte ti basta veramente che cambiano un piccolo dettaglio che poi ci sia un problema chiaro che meno legami si abbia il concetto fondamentale è più ti lega a un qualcosa e più hai problemi a cambiare se lui cambia tu sei fregato fondamentalmente e devi quindi sviluppare il cambiamento quindi l'aggiornamento per far sì che ora funziona rispetto a prima se qualcun altro sì io ho una domanda ciao ciao allora questa astrazione di cui capisco molto bene l'utilità non porta però a perdere i vantaggi dell'utilizzo di un framework meglio io utilizzo un framework perché mi porta alcune cose alcune strutture che mi tornano utili però se devo astrarle probabilmente finirò a non usarle più quindi a quel punto forse è meglio usare delle librerie per quello che mi serve e lasciare stare un framework se non riesco a sfruttarlo spesso per comodità io adesso sto usando Laravel da un po' non lo conosco ancora molto bene però se non potessi usare Eloquent probabilmente non mi servirebbe poco avere Laravel dietro ma tu non è che poi non puoi usare Eloquent nel senso il concetto sta proprio quello sta proprio lì allora tu effettivamente Eloquent lo puoi utilizzare ma lo nascondi nascondi l'utilizzo di Eloquent ad esempio aspetta che cerco l'esempio non lo trovo più ah alla fine sì scusate ok tu di fatto Eloquent lo usi in questa parte lo puoi usare lo usi qua dentro ok quindi tu non è che non utilizzi il framework allora semplicemente ok cancelli molto della magia che il framework ti offre quindi certe cose ovviamente magari non riesci ad utilizzarle però di fatto tu lo utilizzi qua cioè fai in modo che il tuo dominio non venga sporcato non venga a conoscenza di come tu fai effettivamente le cose e tu poi usi Eloquent usi il query builder di Laravel usi PDO usi una query diretta quello si chiama dettaglio implementativo così come tutta la parte di routing io la continuo a utilizzare la parte di dependency ingestion container io utilizzo e come se utilizzo è proprio quello che mi permette di mettere insieme tutti i vari pezzi fondamentalmente senza la di del framework io non riuscirei a fare questa cosa qua però questo mi permette ad esempio se volessi staccarmi da una libreria o da un'altra posso farlo senza essere per forza vincolato se voi ad esempio utilizzate nel vostro codice Eloquent direttamente o Docs indirettamente nel vostro use case poi rimanete ancorati a quella tecnologia a quella particolarità del framework quindi se volete utilizzare ad esempio MongoDB non potete utilizzarla perché siete legati a Eloquent o Doctrine ad esempio mentre questo approccio voi potete potete farlo e praticamente grazie al PSR noi praticamente abbiamo i framework che sono sempre di più un insieme di librerie e giustamente cominci tu io posso tranquillamente usare le librerie certo puoi è una cosa che puoi fare ma i framework a volte ti danno diciamo un impianto o le librerie già attaccate fra di loro come dovrebbero essere quindi di fatto non è che non si utilizza il framework lo si utilizza ma in maniera differente più smart in maniera tale che se io volessi anche solo cambiare il framework ad esempio chi è che era Mirko che ha detto che ha fatto l'upgrade giusto sì giusto ecco da Laravel a un'altra versione magari è stato così ma se avessi voluto passare a Symfony come sarebbe andata no beh certo lì è stata sempre del solito trade off quanto ho bisogno di uno strumento che mi permetta di lavorarci subito quanto invece posso ho agio per costruirci sopra sì esatto quindi sì diciamo che inizialmente il framework ti aiuta a lungo andare in realtà ti vincola e ti incatena quindi questo approccio ci permette di non rimanere vincolati incatenati pur utilizzando la loro potenza certo grazie prego ci sono altre domande salve buonasera a tutti buonasera c'è una domanda che non è strettamente legata alla presentazione però che mi è venuto in mente leggendo sentendo la presentazione e sentendovi parlare e già che siete sicuramente un gruppo di persone che hanno una lunga esperienza in ingegneria di sviluppo la domanda è la seguente io abitualmente ho sempre sentito parlare molto dell'esempio della situazione in cui tu devi cambiare di database per esempio di passare di una maiscuela a un mongo a un postgres e io volevi sapere fare una specie di poll tra voi di quante volte vi è successo realmente questo nella vostra vita lavorativa che avete dovuto cambiare di una database in un progetto lungo magari è simplemente per farmi una idea quanto abituale succede questo problema che si sente tanto parlare era solo questo si rispondete pure poi dico la mia idea allora a me è da due mesi di tempo da oracle a postgres obbligatorio l'anno scorso brutta roba il capo è arrivato ci costerebbe 75 mila euro se non lo facciamo abbiamo due mesi di tempo ce ne abbiamo fatto a me è capitato una volta imparzialmente nel senso che abbiamo introdotto MongoDB su una parte di applicativo mentre un'altra volta grossa è stata quando abbiamo dovuto abbandonare Symfony 1 avevamo un applicativo che andava aggiornato a Symfony 2 non c'era un path di upgrade netto come adesso perché avevano riscritto praticamente l'universo e tra l'altro siamo dovuti anche passare da Propel dal caro vecchio Propel a Doctrine perché Propel non è stato aggiornato non è mai stata rilasciata una versione stabile 2.0 che girasse su Symfony 2 e abbiamo dovuto riscrivere tutto fondamentalmente era tutto totalmente legato perché il primo applicativo era fondamentalmente proprio classico pezzo da start up non ho buttato giù all'inizio veloce veloce e abbiamo dovuto rifare tutto da capo l'unica differenza rispetto all'esempio di Zeno è che invece che avere una timeline stretta abbiamo spalmato la cosa su tipo tre anni lasciando i due applicativi in piedi in parallelo ha funzionato però ci è costato l'universo ci abbiamo messo veramente una vita a migrare perché nel frattempo non volevamo frenare il business quindi volevamo continuare a rilasciare a dare valore quindi quella è stata l'unica strategia che siamo riusciti ad applicare proprio codebase separata database in comune ogni ogni paio di mesi spostavamo un pezzettino altre esperienze ok molte grazie molte grazie allora in realtà spesso non capita tanto spesso anche perché a volte si è talmente legati a una tecnologia che si dice costa troppo quindi non lo faccio ad esempio a volte può servire magari invece che cambiare da un database all'altro affiancare due database differenti quindi quello è un altro modo per poterlo fare però sì il concetto fondamentale è proprio quello che se ti leghi a un qualcosa poi se vuoi togliere questo legame hai un costo fondamentalmente quindi più abbassi i legami più legami sono come dire laschi e più è facile poi cambiarli o comunque cambiare ciò che sta dietro e questo qua è proprio esattamente esattamente il concetto che abbiamo detto all'inizio di versione di dipendenza che poi se ci pensate è un po' come il discorso del driver voi potete cambiare una stampante potete cambiare una stampante rispetto a un'altra una colori con una laser o una daghi un tempo c'erano quelli ad aghi mi ricordo ancora eppure l'interfaccia rimane identica quindi il vostro sistema operativo non deve ogni volta avere come dire del codice specifico per ogni singola stampante il codice operativo lui usa un'interfaccia standard e poi il driver sono le singole implementazioni quindi e poi chi produce a stampante che ci fornisce come viene implementato quindi non sono in realtà cose vecchie cioè nuove sono cose che si utilizzano ormai da tantissimi anni viste e riviste in mille sarse ma di fatto sono sempre i stessi concetti solo che a volte ce li si dimentica secondo me più che dimenticarli il problema è che visto come dicevi tu giustamente che queste tecniche tendono a costare un pochino di più all'inizio ci si fa fregare dal trade off ci si fa prendere dalla fretta e si prendono le scorciatoie e poi sulla lunga distanza si paga quindi a meno che non sei al 100% sicuro che quella è una roba che fai sei mesi di lavoro e poi non la vedi più nella tua vita e non capita spessissimo sicuramente poi devi pagare il conto insomma assolutamente infatti la domanda che vi dovete fare è quanto tempo dovrà vivere il mio codice in base alla risposta Alberto infatti mi viene in mente che in realtà ne ho fatto un'altra di migrazione tra la database in quel caso da Postgres a MySQL però me ne ero dimenticata perché in realtà ci ho impiegato mezza giornata a farla perché il software in quel caso era un software che era nato con MySQL è sempre evoluto con MySQL si trattava solo di un forca aziendale interno per cui si è voluto usare Postgres dopo alcuni anni si è smesso di usare Postgres ma visto che l'applicativo che è un applicativo open source è sempre evoluto su MySQL quando abbiamo mollato Postgres abbiamo rimesso a posto due particolarità di modi di fare i contatori ed è finito mezza giornata di lavoro praticamente me l'ero addirittura dimenticato che avevo passato ho ripreso tutti i dati tutti i dati presi dalle tabelle Postgres finiti nelle tabelle MySQL nessuna perdita perfetto quello che è mancato era due procedure che si basavano su delle storage che erano possibili solo in Postgres e non in MySQL quindi fondamentalmente vuol dire che il livello di lastrazione era sufficiente insomma sì sì no no ma in realtà perché in realtà il problema era che perché c'era questo livello di lastrazione ottimo perché in realtà era stata l'azienda internamente a mettere in più Postgres su quell'applicativo ma l'applicativo è sempre evoluto su MySQL era un di più il fatto che noi usassimo Postgres dunque siamo tornati abbiamo mollato il nostro fork siamo tornati nel main e visto che abbiamo dovuto sempre tenere presente di essere un fork in realtà alla fine il lavoro era pochissimo e dunque sì cioè se tu diciamo prendi io l'ho vista così se tu prendi un database in più su un applicativo che mantiene qualcun altro e poi dopo degli anni vuoi tornare sull'applicativo principale di solito non è difficilissimo perché tu sicuramente hai dovuto adattarti anche all'altro DB negli anni mentre invece quello che mi ricordo dell'anno scorso è stato un vero bagno di sangue totale non abbiamo fatto come ha detto Alessandro abbiamo praticamente interrotto lo sviluppo di qualsiasi cosa per tre mesi perché naturalmente un applicativo portato avanti per anni su Postgres su Oracle passare a Postgres perché bisognava licenze di Oracle che erano cambiate e dunque avevamo Oracle che ci stava per iniziare a mandare le multe che manda ci aveva lasciato tre mesi di tempo aveva fatto un deal con quelli dell'Oracle Europe a riguardo e è stato bagno di sangue per tre mesi non si è fatto niente anzi abbiamo pelo pelo fatto una piccola fix di security fuori dal lavoro di porting un intero team che faceva solo quello ecco questo si sarebbe dovuto evitare se si fosse applicato se avesse applicato questa metodologia un po' di marchetta va bene faccio presente che era in Java tra l'altro l'ho capito era in Java era brutalmente in Java sta roba cambia poco il progetto non è che cambia poco però dovevo scrivere in Java in quel momento giusto per fare la battuta se assumiamo che gli altri 17 che siamo in chat non hanno detto niente non hanno avuto nessuna migrazione non è tanto ci potrebbe dire no se lo scherzavo voglio dire che sicuramente cambiare proprio il DB brutalmente non è non è una roba così frequente però a volte cambiare anche dei pezzi più piccoli o anche solo dover affrontare grossi aggiornamenti delle librerie magari non la cambi ma la devi solo aggiornare tra motivi di sicurezza o semplicemente per stare al passo anche quelli spesso sono sono problemi nel senso che comunque se è una nuova major version ci sono dei cambi delle breaking change che sono incompatibili comunque ti costringono mettere le mani in pasta e più è piccola la superficie di contatto meno lavoro c'è da fare è vero ma quello che mi succede a me è che io personalmente sono innamorato delle sequele pure e duro quindi praticamente molte volte mi risulta più facile capire incluso leggere le istruzioni SQL che mettermi a imparare per esempio un eloquente eccetera che dopo riconosco che è molto bello molto leggibile molto però e già SQL per sé è un standard voglio dire che ho dovuto cambiare un'applicazione piccola però ho dovuto cambiare recentemente la versione di MySQL e sì ho dovuto fare qualche cambio ma è stata una cosa una cosa minima non so non ho dovuto mai fare un cambio a per esempio a Postgres quindi non so se l'esquivel di Postgres è molto diverso l'esquivel di Postgres è molto diverso da quello di MySQL però in principio è già un standard e quindi mi veniva il dubbio giusto per quello perché a volte mi risulta un po' difficile mettermi a imparare un ORM eccetera però è assoluto chiaro ma infatti da quel punto di vista secondo me l'approccio che spinge Christian in questo suo talk si sposa molto bene anche con non usare un ORM o cose del genere intanto stai nascondendo tutto dietro un repository poi travasi tutti i dati che tiri fuori in qualunque modo tu preferisca li travasi dentro gli oggetti di dominio e poi benvenga al non avere un ORM o non avere Eloquent è un altro possibile modo per disaccoppiare il framework o i tool che utilizzi dal codice di business allora una cosa che forse adesso vediamo se riesco a velocemente un'altra cosa che non ho detto o magari ho detto poco in questo schema queste frecce che noi vediamo hanno un significato ben preciso di fatto trasformano o comunque traducono un concetto che è presente qua in un concetto di dominio il che vuol dire che io qua posso avere ad esempio una query fatta in SQL o in Eloquent o in Doctrine o qualsiasi cosa a me pare posso avere anche non lo so un dummy quindi una cosa finta che tanto un CSV sì perché di fatto poi traducendo nel linguaggio del mio dominio io davvero non noto differenza non ho nessuna differenza quindi qua davvero posso usare qualsiasi cosa e questo mi dà molta potenza perché mi permette di concentrarmi solo su il problema che il problema di business che devo effettivamente risolvere piuttosto che sui dettagli implementativi che vengono nascosti dall'interfaccia e poi possono essere veramente qualsiasi cosa addirittura a me è capitato per un progetto lavorare tipo tre mesi solo su la parte di application e domain senza attaccarci niente quindi soltanto testando lo use case poi ci abbiamo attaccato magicamente il DB e tutto è funzionato senza senza provare senza fare mille integrazioni il test prima era cioè il test fatto sull'application è molto veloce perché non c'hai da tirare su database non c'hai da mettere i dati nei database creare tabelle semplicemente verifichi che il flusso dei tuoi dati vada come tu ti aspetti e poi ti basta come detto prima che la tua interfaccia venga rispettata nella tua implementazione e puff magia tutto funziona come dovrebbe quindi ti velocizza anche nello sviluppo effettivamente quindi qua davvero potete mettere qualsiasi cosa in questa parte qua qua comunque nella parte di framework potete utilizzare framework non utilizzarlo usare solo librerie incrociare framework differenti avete una libertà di azione assoluta perché tanto qua che il vostro core che il vostro noccio rimane cioè questo deve essere la parte su cui voi vi concentrate maggiormente se questa è sicura se questa funziona come voi aspettate fuori potete fare tutte le magie che volete e il vostro codice continuerà a funzionare come voi vi aspettate spero che vi aver dato un minimo di come dire anche solo una pulce nell'orecchio un minimo di curiosità sulla sulla metodologia in ogni caso altra piccola marchetta se volete se qualcuno è interessato e sta cercando lavoro noi stiamo assumendo e anche tanto siamo sempre a ricerca di talenti quindi nel caso fatemelo sapere che allora anzi vi ho vinto luco io internamente quindi anche è più facile entrare se passate da me mi potete contattare tramite Slack sul canale Grusp con questo nome su LinkedIn questo è il link e via mail a vostra scelta infine sto provando a fare dei repo su GitHub sono ancora in fase beta quindi sono ancora in fase di evoluzione ma noi effettivamente a livello interno li utilizziamo ed è un modo per avere delle basi dei blocchetti di partenza per applicare proprio questi metodi quindi se se volete dateci un occhio magari se c'è qualche errore aiutatemi a correggerlo date commenti e se vi trovate bene magari anche contribuite perché no ok grazie Cristian adesso grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti